tan 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 Ben ritrovati di nuovo su Review in You, vi vado a mostrare queste luci RGB Qui state su Amazon ad un prezzo di 24 euro, vi lascio il link in descrizione sono della lunghezza di 10 metri, ma le trovate anche in diverse misure Devo dire che trovare dei led RGB così lunghi, quindi 10 mt in questo caso, non è una cosa così facile anche perché appunto certi venditori li vendono spezzati quindi dovete attaccare prima una fila da una parte poi una fila dall'altra invece 10 metri di led RGB unico è davvero una cosa interessante l'ho acquistato per la mia home gym quindi per creare un'atmosfera e utilizzandoli in questi mesi devo dire che mi sto trovando davvero bene sono già andato a montarli li ho poi diciamo inseriti all'interno di alcuni profili apposta in acciaio ricoperti da uno strato diciamo di plastica bianca per creare un effetto opaco vi lascio magari anche il link in descrizione di questi profili che ho acquistato e la video recensione andiamo a vedere magari insieme la confezione come vedete già qua viene mostrato la possibilità di andare ad installare un'applicazione si chiama lanterna di loto e quindi controllare la luminosità, gli effetti eccetera c'è la possibilità appunto di utilizzare anche la funzione luce a tempo di musica quindi se mettete una cassa come nel mio caso e fate riprodurre una canzone le luci si illumineranno a dipendenza della musica ovviamente avete anche un telecomandino per andarle ad accendere, spegnere, controllare la luminosità e gli effetti e poi ovviamente andiamo ad aprire la scatola perché vi faccio vedere il libretto di istruzioni eccolo qua è veramente intuitivo si va ad inserire tutto all'interno di questo ricevitore e poi a collegarli in questo modo come vedete c'è anche il codice QR per andare a scaricare l'app e qua ci sono le varie schermate che vi mostrano quello che potete andare a fare ecco, magari mi soffermo un attimo qua come vedete c'è anche l'alimentatore lo andate ad inserire inserite poi la parte bianca del ricevitore e l'antennina se mi metta fuoco è questa qua che va eccola che va appunto a ricevere il segnale del telecomando e quindi davvero comodo passiamo alla fase di test come vedete qua c'è lo speaker che sono andato anche a recensire e che mi serve per animare le mie sedute nella mia home gym andiamo a diminuire la luminosità di questa plafoniera così appunto possiamo andare a vedere meglio le luci RGB spero renda bene in camera anche questa plafoniera regolabile col telecomando è davvero un ottimo acquisto perché potete creare un'atmosfera davvero unica e anche regolare la luce calda dalla luce fredda come vedete l'antennina RGB dei LED RGB che vi sto mostrando lo nascosta qua dietro come indietro è anche inserito il ricevitore qua parte la striscia unica LED RGB come vedete c'è questo profilo quello che vi dicevo prima che sono andato a montare è plastica e al di sotto è alluminio ma andatevi a guardare la recensione che vi lascio qua sotto adesso vado direttamente dal telecomando ad accendere il LED e come vedete abbiamo il nostro LED che va e percorre tutta la home gym possiamo ovviamente scegliere noi i colori rosso non rende tanto adesso dalla telecamera però potete anche diminuire aumentare la luminosità vado magari a avvicinare un po' ecco una riuscita a vedere e potete ovviamente anche fare un effetto diciamo flash un effetto non so a dissolvenza graduale potete creare diversi effetti mettere anche un timer di spegnimento e soprattutto la cosa bella è anche il fatto di schiacciare qua sul telecomandino e scegliere la modalità tempo di musica ad esempio mettiamo questa qua e adesso andando a parlare e poi si muoveranno a tempo poi vedete c'è anche quest'altra modalità di illuminazione a tempo di musica quindi qua si va veramente a spegnere una volta che non si parla più che non c'è la musica e poi ci sono anche altre modalità tipo la modalità discoteca che si illumina un po' più vivacemente e non è davvero malaccio questo effetto mi piace moltissimo da un tocco in più alla mia home gym ma potete appunto comprarle per metterle nel soggiorno nella camera e mi dispiace che non si veda al meglio l'effetto ma fidatevi è un effetto davvero piacevole anche con questi profilini che rendono il tutto un po' opaco e non si vedono diciamo i singoli led rgb se avete qualsiasi domanda non esitate a formala finché in descrizione dei led rgb della plafoniera dello speaker che magari vi può interessare anche dei profili che ho acquistato sempre su amazon mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale mi farebbe davvero piacere